Le prime tre società della prima cicloturistica dei pochi più belli d'Italia il ciclo club Piemonte, la cicloturistica Perugia, il gruppo sportivo Amspol con l'applauso di Castiglione dell'Agro e il due che sindaco di Spello Antonio Luna quindi il testimone dal 2011 fino al 2012 quindi siamo già verso Spello, ci mettiamo in cammino verso Spello anche con l'Avis, con il Presidente Roscini, con tutti quanti La prima edizione della cicloturistica dei borghi più belli d'Italia dell'Umbria è stata un successo, abbiamo fatto risinare a numerosi ciclisti provenienti da diverse parti, da sei borghi più belli d'Italia dell'Umbria partenza e arriva da Castiglione del Mago e il prossimo anno sarà Spello protagonista della seconda edizione L'Avis regionale è stata delieta di collaborare a questa bellissima manifestazione la prima pedalata dei borghi attraverso i borghi più belli dell'Umbria e speriamo che questa collaborazione si traduca anche per l'anno prossimo ad un maggior successo e far vedere i posti più belli del nostro territorio grazie grazie